Sono basate poche ore carabinieri della stazione di Scoglitti per consegnare alla giustizia uno dei tre malviventi che nel pomeriggio di ieri hanno rapinato una sessantenne del posto e accaduto alle 18.20 circa. Le manette sono scattate ai polsi di Ben Meradualim, nato a Vittoria, 22enne residente a Scoglitti, ma di origine tunisina e con precedenti di polizia. Il 22enne dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. E' ritenuto responsabile di aver rapinato in via Livorno alle 18.20 circa insieme ad altri due soggetti allo Stato e ignoti una casalinga sessantenne del posto mentre stava rincasando. I tre, dietro minaccia di un punteruolo e dopo ripetuti strattonamenti, le hanno sottratto una collanina in oro. Subito dopo si sono date alla fuga per le vie limitrofe della frazione mentre la vittima è stata accompagnata al PTE dove è stata medicata e giudicata guaribile in tre giorni. Immediate le ricerche dei tre malviventi da parte dei carabinieri della locale stazione che grazie alla conoscenza del territorio e dei pregiudicati che vi bazzicano sono riuscite ad individuarne uno. Ben Meradualim infatti era già conosciuto per essere stato arrestato lo scorso novembre insieme ad un altro extracomunitario di Scoglitti per aver premediatamente danneggiato sette autovetture parcheggiate. Il giovane al termine delle formalità di rito è stato astuciato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere del reato di rapina aggravata. Intanto sono in corso le indagini per cercare di individuare gli altri complici.